Prosinone 2 Monza 3 vittoria pesantissima la prima di questo 2024 è stata una vittoria sofferta il Monza era passato un vantaggio di tre gol poi ha fatto riaprire la partita ai padroni di casa e ha saputo soffrire ha saputo soffrire come soffrono le grandi squadre con qualche errore a livello difensivo che ci può stare Palladino ha cambiato molto rispetto alle ultime uscite con una formazione che molti di noi non si aspettavano devo dire che mi ha stupito in maniera positiva anche quella che è stata la prestazione della squadra sono tre punti pesantissimi che consentono il Monza di concludere questo bel girone di andata a quota 25 con una bella distanza sulla zona rossa della della classifica siamo in questo momento a più 11 rispetto alle squadre che in questo momento occupano il terzo ultimo posto direi che è una bella è una bella distanza è una distanza meritata e non voglio parlare di di Europa come ho fatto in tanti video in questa stagione voglio voglio parlare di quello che l'obiettivo primario cioè quello di mantenere la la categoria è stato un girone di mandata sicuramente positivo con tantissime problematiche tantissimi infortuni la situazione del Papu Gomez ecco a proposito di infortuni voglio mandare un abbraccio un grosso in bocca al lupo a Michele Di Gregorio io spero davvero che il suo infortunio non sia così grave come come è sembrato nelle immagini l'ho visto uscire in stampella questa cosa mi fa un po un po di paura per il resto della nostra stagione purtroppo è stata una stagione un po maledetta per quanto riguarda gli infortuni i nostri giocatori perché abbiamo perso via via Izzo abbiamo perso per diverse giornate Pablo Marie abbiamo perso Pacu Gomez per la squalifica abbiamo perso Vignato per diverse per diverse giornate abbiamo perso Caprari per tutta la stagione ecco mi auguro davvero che questo questo infortunio non sia così così grave perché insomma Di Gregorio è un giocatore fondamentale per noi senza nulla togliere a Sorrentino insomma Di Gregorio ci dà più garanzie in porta rispetto all'estremo difensore che nel giro dell'under 21 quindi mi auguro davvero che sia un infortunio non gravissimo cos'altro dire di questa partita il Monza l'ha portata sui binari giusti già nel primo tempo già nei primi minuti abbiamo avuto la percezione che il Monza potesse portare a casa il risultato pieno vi dico la verità parlando con i miei collaboratori prima della partita ho detto io firmerai per un pareggio oggi perché il Frosinone è una delle squadre che esprime il miglior calcio in questo campionato e l'ha dimostrato anche nel nel secondo tempo è una squadra tosta una squadra che ti concede il giusto ma poi ti sa colpire perché ha tanta qualità là davanti bene noi abbiamo fatto la nostra partita abbiamo saputo colpire nel momento giusto bravi i nostri là davanti voglio fare un applauso anche a Valentin Carboni un assist e un gol per lui questo è un giocatore che può avere davvero un grande futuro oggi nel dubbio su chi togliere al sessantesimo il Monza ha preferito togliere colpani piuttosto che Valentin Carboni Valentin Carboni è rimasto in campo fino al novantesimo e questo è un bel segnale per per il giocatore e credo davvero che abbiamo trovato un altro talento in questa in questa rosa adesso testa la partita di sabato prossimo con l'Inter abbiamo fatto bene lo scorso anno contro i Nerazzurri abbiamo fatto un po così così nella prima gara di quest'anno ma quello era un altro Monza io credo che ci sarà una bella battaglia sabato sera allo You Power Stadium contro un Inter che secondo me è la squadra più forte del campionato sia nei titolari che nelle riserve oggi ha vinto soffrendo contro il Verona con tante polemiche arbitrali ecco spero che non ci siano grosse polemiche sabato l'anno scorso l'Inter ha portato avanti questa polemica nel confronto del Monza per un gol annullato per tante settimane per tanti mesi ecco spero davvero che questo non succeda sabato sera che sia una bella partita e speriamo davvero di portare a casa la prima vittoria in Serie A contro i Nerazzurri insomma io io ci spero dobbiamo guardare questo 2024 come ha detto Palladino con tanta tanta fiducia mi raccomando scrivetemi qui sotto la vostra opinione se vi è piaciuto questo intervento o meno poi ci vediamo l'undi sera sul canale 110 dal centro di Monza da Andros Monza faremo una super puntata con questa maglia quella nera in paglio a chi azzeccherà la maglia quindi la domanda pardon sono un po' fuso mi raccomando ore 21 canale 110 città le terrestre oppure su sky sul canale 890 e streaming su Monza News ciao buona buon weekend a tutti